ho fatto delle belle cacce ma in due ore di partita non mi è sembrato il caso di condividere un fal di due ore anche perché una cosa è prendere cinque animali cinque animali quelli che sono stati in un ora una cosa in due ore ma almeno vale come pratica no lo sto notando che ultimamente trovo sempre meno tracce in giro o devo tornare nelle zone dove ho cacciato come a prenderle come punto di riferimento ora Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Sì. Sì. Un po' allontanato. Si vede che mi aveva... ...fittato vista. Alla prossima 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 Abbiamo Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima